Un modo originale per usare il lavavetri. Addio polvere! Il tè al limone non è solo un'ottima bevanda, ma anche un detergente naturale per vetri e specchi. Brillantezza assicurata! Per la pulizia delle superfici in pelle, prova ad usare la crema idratante. La pelle tornerà lucida e senza macchie. Perfetta! Con questo trucco i tuoi tappeti saranno sempre puliti e profumati. Strofina bene con una scopa. Poi, passa un panno in microfibra. Come nuovo! Prepara delle strisce adesive profumate per tenere lontani i cattivi odori in casa. Attaccale nel secchio della spazzatura. L'acciaio è opaco? Basta una pallina di carta argentata per rimuovere in un attimo le macchie. Geniale! Diluisci un tappo di candeggina delicata in abbondante acqua. Rimuove gli aloni in un attimo. Incredibile! Doccia incrostata? Usa una spilla da balia. Libera anche i fori più piccoli. Dopo una pulizia approfondita del bici, vorresti che la freschezza non si perdesse mai? Spruzza della lacca per capelli. Profuma il bagno ad ogni scarico. I cuscini hanno un cattivo odore? Prova questo rimedio fai da te! Ottieni il sottovuoto con l'aspirapolvere. Problema risolto! Perature di ordine. Grazie a tutti. Grazie.